Ciao a tutti i miei gamers e bentornati da vostro Nilux, riprendiamo con il nostro Injustice 2 e nello specifico andiamo avanti con la storia principale del gioco allora ci siamo appena fermati dopo che Batman secondo me ha fatto tra virgolette una grandissima cavolata ovvero ha liberato Superman per poter affronteggiare diciamo a parilivello Brainiac ha fatto bene? Non ha fatto bene? Questo non lo so però gamers fatemi sapere voi cosa ne pensate tramite un commento mi raccomando molto bene ragazzi ma prima di iniziare come sempre mi invito a lasciarmi un bel pollicione all'insù per poter supportare questa serie e questo canale mi raccomando è molto importante e infine ragazzi se non siete iscriviti iscrivetevi al canale per vedere nuovi video e serie future bene ragazzi iniziamo subito eccoci qui ragazzi allora noi ci eravamo fermati dopo che Wonder Woman e eccolo qui e praticamente Supergirl stavano aiutando le persone ecco praticamente dall'attacco del nostro Brainiac vabbè dopo la nostra Wonder Woman è stata attaccata da Minerva o Cita non so come cavolo cioè io la chiamo Minerva onestamente ragazzi la donna Pant... no donna... donna Gepardo? donna Leopard? vabbè comunque ragazzi quella lì bella questa qui mi è piaciuta sta mossa si ho capito ma un po' di quello che si dice però Wonder Woman occhio eccolo glielo sapevo che lo faceva ok dopo praticamente è stata attaccata da l'Antiflash e Capitan Cold ok sperando che adesso non mi faccia... uuuu no 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 indietro indietro come ha fatto a beccare mi ha saltato a parte che è a lungo raggio questa tecnica vabbè comunque pazienza ok ciao via un po' ok alla stragrande dai eh occhio vediamo un po' se riusciamo a fargliela grande mamma mia se forte Wonder Woman eccolo qui l'Antiflash ok ragazzi andiamo contro l'Antiflash vediamo un po' se cosa riusciamo a combinare con la nostra Wonder Woman con uno degli uomini più veloci del mondo uno dei velocisti che tutti noi conosciamo almeno spero che voi conoscete a parte Flash c'è anche l'Antiflash ovviamente che è New Barton eeeh com'è che si chiama? c'è Zoom e poi c'è anche Sabitar ragazzi non so se... o Sabitar o Ghost Speed non so come chiamarlo onestamente vai sotto cioè riesci sempre a far la presa è assurdo poi non so che cavolo sta mirando Wonder Woman però vabbè ok si si come no potreste arrendi di sicuro vai ok oh oh massimo cavolo pareggio siamo arrivati assurdo ma vero no porca miseria attenta attenta che questo è forte vai 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 è riuscito a beccarmi ok stiamo attenti attenta ok grande di sicuro non sei un oracolo Diana sei salva grazie a Rao dobbiamo trovare Cara la troveremo Clark non c'è tempo per su mi sei mancata possiamo sconfiggi per loro sarà la fine e noi regneremo fianco a fianco alla pari da amanti no aspetta ragazzi non ci sto capendo niente che sta succedendo dopo la morte di Lois ho cercato conforto in te e tu hai manipolato il mio dolore mi hai trasformato in ciò che non sono non è vero il mio amore ti ha reso più forte è quello che dici a te stessa è quello che dice Superman spaventa passere ok ragazzi eccoci qui contro lo spaventapasseri cattivo cazzuto e bastardo come sempre mamma mia quel gancio lì ma è da un bot che non sfidavamo lo spaventapasseri o sbaglio vai attenta vai ok dai sotto senza il respiro che razza di mamma mia che massa era vai vai no ma dai non ci credo per un pele non l'ha beccato ma guarda te che roba ok vai ma è riuscito a fermarlo ma ragazzi è veramente una bomba però c'è continua a sprecare io vorrei fare le mosse finali invece continua a sprecarle per queste cose dai oh la seduta di terapia è finita dovevi staccargliela con la mano lì che gli succede che gli succede ragazza d'acciaio ma che bel bocconcino non mi sorprende che Bregna ti voglia viva o morta i kriptoniani sono vulnerabili alla magia e i miei artigli graffiano magicamente ma cosa cosa sta facendo resisti cara gli dei ci proteggeranno mi sorprende una donna indomabile come te si fa comandare da Grodd no principessa lo faccio solo per riuscire a catturare la mia preda tu fallirai come quando cercavi il potere divino e hai trovato solo la maledizione di Cipa la definirei un dono ora sono più forte più veloce e assetata molto assetata di sangue di amazzone aia ok questa è forte è maledettamente veloce ragazzi è una bomba questa qui quando comincia basta guardate che roba vai uh vai ok ok dai ce la facciamo vai 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 che ce la facciamo uh adesso comincia guardala lì fa di quelle combo questa qua aia che botta ma chi te lo dice vai dai wonder woman andiamo un po' perfetto perfetto cerchi sangue la maledizione non ti abbandonerà mai è la sola pace che meriti come va blondi resisti ne ha prese abbastanza scolaretta non sono a pari tuoi pagliaccia batman ha detto basta sangue fai la maestrina adesso quanto ne hai già versato tu qui assecchiate tesoro forse ho esagerato cercando di sedurre l'uomo sbagliato come hai fatto tu con superman no ma che cavolo stai perdendo troppo sangue ora sentirai dolore molto dolore meglio così oh gli ha cauterizzato la ferita cosa stai facendo cara ti sto impedendo di commettere un errore quella mazza merita di morire forse ma in questo momento è in difesa dicevi che le amazzoni combattono con onore ragazzi non ci sto capendo più niente perché perché davvero non riesco proprio a capire vai uh dai sotto eh eh l'ho parato però eh è che sto diventando bravino anch'io in questo gioco più o meno eh infatti che ho appena parlato dai sotto vai peratina ma perché davvero non riesco a capirci più niente ragazzi vai sotto no e dai ma non è giusto dai sotto ok vediamo un po' se riusciamo a fargliela no ma dai ma non l'ha beccata ma non ci credo volevo fare la mossa finale se così si può chiamare mi fidavo di te diana andrà tutto bene ti porto da un dottore cal ti proteggerà superman oh blondie sei proprio uno spasso hai scoperto qualcosa ho analizzato i dati kriptoniani come mi avevi chiesto nulla di nuovo non avevano scoperto niente su breniak deve esserci qualcosa un difetto un punto debole la forza da sola non sarà sufficiente se i tuoi poteri sono tornati io andrò nel kandak devo assicurarmi che le difese siano pronte breniak non ha ancora attaccato la roccia dell'eternità nasconde il kandak da sguardi indiscreti incluso quello di breniak ma temo che prima o poi ci troverà cal devo parlarti scusate un attimo voi due damien mi ha raccontato tutto come sta diana sta bene ma stava per uccidere altri non l'ho mai vista così fredda e spietata si è un peccato già cosa ne è venuto in mente è un peccato che diana abbia deciso di fare qualcosa solo ora e che tu l'abbia impedito che cosa joker ha plagiato la sua mente in modo irreversibile quando si riprenderà ucciderà altri innocenti ma gli innocenti stanno già morendo ci stava aiutando essere ingenua cara harley è una criminale il mio unico errore è stato non occuparmi di lei prima diana ha detto che joker è stato giustiziale sei stato tu una vita per salvarne miliardi ma non è la sola vita che hai posto qui ne è vero cal quante sono quante ora capisco perché ovunque vada la gente ha paura di questo non avrei voluto farlo ma gli umani continuano a uccidersi tra loro da millenni io ho messo fine a questa carneficina gli umani hanno bisogno di una guida dobbiamo salvarli dalla loro natura di chi sei qui di jorel o del generale zod cara non fatele lasciare la fortezza no dai ma dai ma non è vero ma guardate si come no guarda e tu sei dannato vai sotto questa super girl qui è fortissima mi piace un bot vai ok intanto mi è voluto fuori l'installazione completata di Tom Clancy a voi piace come gioco a me è un casino però non lo porto sul canale perché mi piace giocarlo in tranquillità con i miei amici e via occhio che botta ragazzi che botta guarda guarda che tu sia maledetto no porca miseriaccia vai no accidentaccio vediamo un po' se riusciamo a farla grande black adam riuscirà a scappare la nostra cara non lo so ragazzi la vedo molto molto difficile anche perché sono personaggi davvero temibili questi no e con le maledette sfere lo proteggono è una cosa incredibile via via ah poi può colpire anche a lunga distanza mi dà un fastidio che voi non immaginate nemmeno no aia eh Shazam vai sotto vai sotto vai sotto sotto non dobbiamo lasciargli via di scampo se riusciamo adesso me ne sta dando lui però porca miseria però loro mi tolgono di più non è giusto e ciao vediamo un po' si preso per tua fortuna io so contenetile cara per favore ascoltami ascoltami non useremo i nostri poteri coloro che amiamo ne pagheranno il prezzo mi spiace non essere stato qui per evitare ma metropolis non è stata colpa tua l'ho giurato a me stesso mai la speranza non basta salvare il mondo senza di me sarebbero già tutti morti urca scontro tra dei ecco sarà difficile boh speriamo in bene davanti dobbiamo riuscire a farcela avanti su dobbiamo fare le nostre super combo e ciao super combo un paio di scatole vai comunque davvero è un casino vogliamo un po' oh ti posso aiutare pensa a quello che hai perso cara non avresti voluto poter salvare critton ci penso tutti i giorni allora aiuta è bremiak ha già iniziato a estrarre la città dobbiamo fermarlo tornerò nel kandak per difenderlo vai noi andremo a metropolis che ne facciamo di lei in questo momento l'importante è fermare bremiak bene ragazzi sarà una scelta molto 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 difficile tornero Grazie a tutti. Ah, dottor Feito. Perché non posso fermarlo? Perché non mi lasci intervenire? Come potrà esserci ordine se vincerà Brainiac? L'umanità genera caos. Brainiac è ordine. Superman e Supergirl stanno arrivando. Gli altri si stanno occupando della flotta. Noi non dovremmo essere a Gotham. Brainiac controlla la flotta dalla nave Teschio. Abbattendolo annienteremo la forza. Contatto, di fronte a noi! Sì, e adesso? Come Independence Day. Non ci hanno aperto la strada. Sto agganciando la nave Teschio. Scudi. Cinque secondi all'impatto! Prepararsi all'espulsione! Tre secondi! Non c'è di che. Cosa succede? Il campo di forza di Brainiac respinge i colpi verso di noi. Più forte colpiamo, più forti i colpi rimbalzano su di noi. Cara! Però, che botta! Criptoniani neutralizzati. Completare all'estrazione. Guarda com'è Spavaldo. E chi è che c'è qua? Ah, loro dove? Guarda com'è Spavaldo. 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 No! Super! Il campo di forza concentra la sua energia nei punti in cui viene colpito. Muovendoti velocemente puoi anticiparlo e oltrepassarlo. Ricevuto. Che botta! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! Oh, no! nooo, Emo momenti di suspense ma cos'è schiattato ecco flash un tempo eravamo molto amici fidavo ciecamente ma Joker l'ha cambiato e io non ero lì per impedirlo ho perso il mio amico Clark e da allora che sento la sua mancazza oh c'è anche Aquaman Atlantide, persa non ti ho ascoltato ora moriremo tutti insieme nessuno si arrende per ora ci sono notizie da Beatle e Firestone è tutta colpa tua Bruce Kale e io potevamo fermare Brennan dovevi lasciarci guidare l'operazione smettila Diana su quella nave sono intrappolate milioni di persone dobbiamo salvarle non insieme a lui quanta discordia non mi sorprende che gli umani non siano ancora riusciti a colonizzare altri pianeti sei qui solo per insultare i miei beta stanno prendendo posizione in tutto il pianeta tra un'ora esploderanno all'unisono incendiando l'atmosfera la Terra sarà trasformata in un satellite sterile a meno che non mi diate cara Zorel è l'ultima kriptoniana rimasta in vita è la mia unica possibilità di studiare gli effetti del sole giallo sulle cellule kriptoniane consegnatela a me e il mondo sarà risparmiato non lo farei mai nemmeno se mi fidassi della tua parola vai un'ora per rifletterci cosa farai batman? no proveremo il modo per abbattere gli scudi di premio dobbiamo farlo dovremo provare a mandarlo in corto circuito ma ci servirebbe una quantità enorme di energia forse la scienza non è l'arma giusta potrebbe essere vulnerabile a un attacco magico posso convogliare l'immenso potere magico dalla roccia dell'eternità nel kandak attraverso il portale ma ho bisogno di un manufatto di uno strumento per canalizzarlo in grado di sopportarne la potenza e usassimo il tridente di atlantide? sì potrebbe funzionare e quando avremo neutralizzato gli scudi? cyborg dice che bregnak controlla la nade con il pensiero l'ho espulso da brother eye potrei generare un segnale di disturbo che blocchi la sua rete neurale riuscirete ad abbattere gli scudi potremmo si mescare gli ordini di beta ottimo piano aquaman, adam, andate nel kandak la roccia dell'eternità è nascosta in una sacca dimensionale non ho più aperto il portale d'accesso dopo l'invasione di bregnak per non attirare la sua attenzione esatto non appena attivato il portale bregnak si muoverà per attaccare non vedo l'ora e adesso che fa? antichi mostratemi il sentiero dorato nel vostro nome shu horus amon zeuti aton mehen black adam ha svelato il potere del kandak e la sua posizione la società mi porterà un campione della roccia dell'eternità voglio studiare questa cosiddetta magia terrestre la società si è sciolta volevano mettere le mani sulla terra per conquistarla non per fartela distruggere e tu grod? io me ne frego il mio padrone sei tu molto bene ti assegnerò dei nuovi soldati portami quel campione prima che la terra venga distrutta e la tua lealtà verrà ricompensata beh grod è pazzo cosa? la nave di strazione è in arrivo Brainiac si prenderà il kandak vabbè ragazzi Aquaman dai usando le tue pedine grod? le pedine possono portare la loro vittoria se sei disposto a sacrificarle ok gamers direi di concludere qui il nostro video siamo andati ancora un po' avanti con la storia principale avete visto che il nostro Brainiac è riuscito a estrarre la città perché non è che l'ha distrutta lui l'ha distrutta e poi poterlo studiare poi tra virgolette quello che lui considera uno scarto lo prende e lo elimina vabbè abbiamo visto che secondo me Clark non l'ha fatto cioè almeno Superman non l'ha fatto fuori perché sennò sarebbe anche un po' particolare un po' strano però la vedo molto difficile anche perché comunque penso che alla fine dovremmo fare la scelta con Supergirl se lei andrà con lui o con Batman non lo so questa è una cosa che sto ipotizzando io al momento però magari è così però insomma per come si sta sviluppando la storia penso proprio di sì alla fine arriveremo al dunque bene adesso tramite Aquaman e Black Adam stiamo raccogliendo l'energia necessaria per poter prendere e distruggere lo scudo quindi adesso abbiamo questo scontro aperto con Black Canary e Freccia Verde vedremo un attimo come si svilupperà la storia molto bene gamers se il video vi è piaciuto mi invito sempre a lasciarmi un bel pollicione nel super per poter supportare la serie e questo canale mi raccomando molto importante se non siete iscritti iscrivetevi bene direi che possiamo salutarci qui un salutone da vostro Ninox The Gamer e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao